Allora, ciao a tutti, oggi andremo a vedere come funziona l'intelligenza artificiale e useremo praticamente il tool integrato nel browser Microsoft Edge che si chiama Copilot, che appunto utilizza l'intelligenza artificiale per questo esercizio quindi andremo ad aprire appunto Copilot qui sulla destra e utilizzeremo il riconoscimento attraverso le foto di animali di diverso tipo, quindi cani e gatti cioè praticamente l'intelligenza artificiale riconoscerà attraverso le foto se c'è un gatto o se c'è un cane quindi andiamo ad aprire foto ad esempio di un cane, quindi dog eccola qua e utilizziamo l'intelligenza artificiale di Copilot per riconoscere appunto se in questa foto c'è un cane o un gatto quindi andiamo qua in aggiungi uno screenshot e andiamo praticamente a selezionare l'area dove noi appunto vogliamo questo screenshot quindi facciamo uno screenshot di questo confermiamo e diciamo all'intelligenza artificiale di dirci cosa vede in questa foto se vede un cane o un gatto o anche possiamo anche dire semplicemente che cosa vede che cosa vede diamo gli invio e lui analizzerà la foto e ci dirà se vede un gatto o un cane allora ho rifatto la domanda in modo più specifico ed ho chiesto all'intelligenza artificiale vedi un cane oppure un gatto e l'intelligenza artificiale mi ha risposto vedo un cane nell'immagine ecco per poter fare questo l'intelligenza artificiale per riconoscere i cani dai gatti in una foto è stata appunto è stata allenata quindi per effettuare il riconoscimento in questo caso di cani e gatti è stato fatto un allenamento su non lo so milioni di foto di cani e gatti e attraverso questo allenamento lui è riuscito a riconoscere cos'è un cane come è fatto un cane e come è fatto un gatto ora andremo praticamente attraverso un esercizio a replicare appunto questo allenamento di cani e gatti questo esercizio sarà effettuato attraverso uno strumento che ci è offerto da google in modo gratuito si chiama Colab praticamente è uno strumento che tutti possono usare in modo gratuito e lo troviamo sul web e questo strumento è utile perché praticamente all'interno di Colab è già stato configurato l'ambiente di sviluppo in linguaggio python quindi un linguaggio di programmazione che ci servirà appunto ad allenare l'intelligenza artificiale e ho utilizzato anche github dove praticamente ho depositato il mio progetto e successivamente metterò un link in descrizione dove potrete aprire sul mio github questo progetto e potete praticamente riutilizzarlo nella stessa maniera in cui io vi mostrerò come funziona e come si scrive il codice e attraverso questo codice di python di programmazione appunto andremo a vedere come è stata programmata appunto nel pratico nella pratica l'intelligenza artificiale e come è stata allenata per riconoscere i cani e i gatti pulite il mio progetto cat and dog su github e clicchiamo sul progetto dog vs cats image classification allora questo è il progetto e lo andiamo il progetto dice the training archive contains 25.000 immagini di cani e gatti che sono stati allenati con un algoritmo che predice appunto queste etichette cioè uno se l'etichetta è uno lui predice cane se l'etichetta è zero lui predice gatto andiamo ad aprire in collab che è appunto l'ambiente di sviluppo gratuito di google apriamo una nuova scheda e iniziamo l'esercizio qui praticamente è stato incollato tutto il codice di questo esercizio quindi è già funzionante l'andremo ad eseguire a spiegare come funziona fino alla fine dell'esercizio che poi andremo a vedere poi se riesce a riconoscere tramite una foto che andremo a prendere da internet si riconosce nella foto il cane un cane da un gatto allora la prima cosa che dobbiamo caricare è il dataset che cos'è il dataset il dataset praticamente è una cartella che contiene tutte le immagini di cani e tutte le immagini di gatti e su queste immagini appunto andremo ad allenare l'intelligenza artificiale quindi andiamo ad eseguire questo task che non è altro praticamente che è un file zippato dove ci sono più o meno 25.000 immagini di cani e di gatti quindi lui lo sta scaricando e dove lo sta scaricando lo sta scaricando appunto sul mio colab nella cartella principale di colab quindi ha scaricato tutto il file zippato e che sono quasi 800 mega dopo aver scaricato il file lo andiamo a scompattare e lui sta sta scompattando tutte le foto dei gatti e dei cani dopo aver scompattato tutte le foto ora vediamo appunto la cartella pet image nel nostro colab eccola qua lui l'ha scaricata e ci sono dentro tutte le foto di cani e di gatti andiamo ora a importare i moduli quindi clicchiamo qui e eseguiamo il task i moduli sono praticamente sono le librerie che servono ad abilitare le funzionalità utili per il nostro esercizio andiamo a creare il data frame per l'input e l'output praticamente il il data frame e questo script che sono andato ad eseguire classifica i percorsi dove risiedono tutte le immagini e assegna le etichette a tutte le foto tutte le foto di cani e di gatti e appunto assegna un'etichetta numerica 0 per i gatti e un'etichetta numerica 1 numero 1 per i cani questo è appunto lo script andiamo all'altro task e seguiamolo questo script utilizza la libreria pandas per creare un data frame a partire dalle liste di input path e label successivamente il data frame viene mescolato casualmente e reimpostato per ottenere un ordine casuale infine viene visualizzato l'intestazione del data frame risultante allora diciamo che tutte queste operazioni che stiamo facendo noi non le andrò a spiegare nel dettaglio perché sennò il video diventa troppo lungo però praticamente tutte queste operazioni che stiamo facendo servono per classificare le foto cioè le foto devono essere messe in un certo modo affinché l'intelligenza artificiale possa diciamo elaborarle e quindi praticamente devono essere ordinate devono essere classificate quindi praticamente come vediamo qua nell'immagine per tutte le foto dei cani sarà dato un'etichetta con un numero e per tutte le foto dei catti sarà dato un'etichetta con il numero zero quindi tutti questi esercizi che ora andrò a eseguire non li andrò a spiegare nel dettaglio ma li potete leggere qui perché ho messo una descrizione per ogni funzione li potete appunto andare a leggere nel link che poi metterò in descrizione dove c'è tutto il progetto e praticamente tutto questo questo codice va a classificare a mettere in ordine ad associare le etichette uno e zero per cani e gatti e poi c'è appunto questo codice che andrò a seguire adesso dove praticamente lui crea a caso prende a caso 25 immagini li mette in una griglia e in questo caso solo cani in modo casuale praticamente questo questo codice serve per per verificare se tutto funziona in modo corretto infatti vediamo che lui ha inserito per ogni foto un'etichetta dog e tutte le foto che siamo andati a estrarre in modo casuale vediamo che sono tutti cani quindi diciamo è stato fatto un buon lavoro di classificazione prima di dare in pasto all'intelligenza artificiale l'allenamento prima di eseguire l'allenamento l'intelligenza artificiale quindi stiamo andando a verificare la bontà dei dati facciamo la stessa cosa per i gatti lui crea una griglia estrarre in modo casuale 25 immagini se sono 25 immagini con etichette di se sono 25 immagini di gatti con etichette di gatti allora è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la bontà dei dati ecco qua vediamo gatti 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 e sono nelle immagini sono tutti gatti quindi è stato fatto un buon lavoro di classificazione ok andiamo giù questo è praticamente che cos'è va a analizzare tutte le foto di cani e di gatti e va a vedere il numero di foto di gatti e il numero di foto di cani e li mette praticamente in un grafico e questo a cosa serve questo ci serve serve a vedere se è stato distribuito in modo equo la quantità di gatti e la quantità di foto di gatti e la quantità di foto di cani se è distribuito in modo equo l'algoritmo di riconoscimento nell'allenamento andrà praticamente a lavorare in modo migliore perché è stato distribuito in modo equo per entrambe le categorie andiamo a eseguire anche questo codice andiamo a eseguire anche questo codice ecco anche questo serve per verificare la bontà delle etichette in modo casuale sono estratte delle foto e lui dice dog numero 1 etichetta 1 cat etichetta 0 e via discorrendo questo suddivide praticamente i cani dai gatti questo invece praticamente è una tecnica che serve per evitare questo codice che ho appena eseguito è una tecnica che si chiama image data generator è una tecnica che serve per evitare l'overfitting che cos'è l'overfitting praticamente quando noi alleniamo l'intelligenza artificiale sempre sulle stesse foto lui tende ad abituarsi su quelle foto e quando gli diamo nuove foto che lui non ha mai visto potrebbe praticamente generare degli errori allora per evitare questo praticamente generiamo delle foto in modo casuale diciamo cambiandole un po' per esempio lo zoomiamo le ruotiamo un po' le stesse foto diciamo abbiamo lo stesso dataset cioè nello stesso dataset che gli abbiamo dato le stesse foto che andiamo ad utilizzare ora sono state un po' modificate sono state ruotate zoomate e quindi praticamente lui è come se avesse delle nuove foto su cui allenarsi e quindi diciamo questo ci aiuta ad evitare appunto che lui si abitui quindi l'overfitting andiamo avanti ecco qua ora praticamente questa è una parte importante il model creation che cos'è il model creation? qui andremo praticamente a stabilire che tipo di di modello di rete neurale andremo ad utilizzare per poter allenare l'algoritmo su appunto su questa riconoscere i cani dai gatti l'algoritmo che utilizzeremo per per creare una una rete neurale è un algoritmo di tipo convoluzionale CNN e quindi andiamo a premere eseguiamo il task e lui ci dà un riepilogo di come è fatta un riepilogo testuale di come è fatta questa rete neurale quindi questa rete neurale è fatta in questo modo con abbiamo un totale di parametri per questa rete neurale di 6 milioni di parametri dopo andremo a vedere che cosa sono questi parametri e abbiamo praticamente 6 milioni di parametri e abbiamo 62 mila nodi e abbiamo 9 strati di di reti neurali ora andiamo a vedere che cavolo che cavolo sono tutti questi 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 valori e li andremo a vedere appunto con un grafico allora questo è il grafico della rete neurale praticamente che lui è andata a creare praticamente abbiamo tre input gli input praticamente sono che cosa lui deve andare ad elaborare in questo caso gli input sono tre perché sono tre allora lui in input riceve una sola foto o la foto del cane o la foto del gatto quindi perché se noi diamo una sola foto gli input sono tre perché lui l'intelligenza artificiale non sa che cos'è una foto non sa che cos'è un cane non sa che cos'è un gatto quindi la foto deve essere trasformata in un numero e questo numero ci è dato appunto da dall'RGB di una foto cioè la foto praticamente è composta da tre strati da tre layers il primo strato sono tutti i colori in rosso il secondo strato sono tutti i colori in verde il terzo strato sono tutti i colori in blu quindi la foto praticamente che noi vediamo a monitor è fatta da tre strati di diversi colori ogni pixel di una foto questo quadrato rosso è uno strato di una foto in un angolino di questa foto c'è un pixel questo pixel è formato da 255 scale di colori cioè praticamente ci sono nello strato del rosso ci sono 255 sfumature di rosso quindi per ogni quadratino ci sono 255 sfumature di rosso qui in quest'altro quadratino stessa cosa e questo succede per ogni strato della foto quindi anche nello strato verde e questo succede anche nello strato blu quindi tutti questi parametri di questi tre strati vengono messi in input in questa rete neurale quindi qua in alto in questo nodo perché queste palline sono nodi vengono chiamati nodi in questo input andrà a finire lo strato rosso della foto in questo input andrà a finire lo strato blu della foto in quest'altro input andrà a finire lo strato verde della foto e ovviamente come dicevo prima per ogni layer per ogni layer ci sono un sacco di input cioè 255 255 255 è la stessa cosa per il verde è la stessa cosa per il blu quindi ci saranno un sacco di parametri per ogni per questi tre input quindi siccome quindi in quindi praticamente avremo quindi per una foto dalle dimensioni di 128 per 128 per 128 scusa allora 128 per 128 abbiamo praticamente per questi tre input avremo un totale di parametri di 49.000 virgola 152 quindi entreranno in questa rete neurale in questi per ogni foto per ogni per il totale di questi tre input che sarebbero i tre input come dicevo prima sarebbero i i tre layer della foto entreranno in totale 49.000 virgola 152 parametri detti anche pesi però siccome ci sono anche altri strati del perché questi sono chiamati layer anche questi altri strati della della rete allora in totale i parametri saranno 62.209 che sono chiedo scusa chiedo scusa il totale dei parametri in tutta la rete neurale sono 6 milioni cioè noi allora spiego meglio questo concetto perché non è semplice allora in input abbiamo detto che i parametri sono 40 di una foto sono 49.000 e sono praticamente il totale di questi tre strati della foto però che succede quando poi entrano in una rete neurale una rete neurale che è fatta di addirittura questa rete neurale questo è un layer di questa rete neurale ma questo è un esempio ma nella realtà questa rete che stiamo andando a creare ha 9 layer quindi ha 9 di questi di questi strati e in questi strati praticamente ci sono ci sono 6 milioni di parametri perché ci sono 6 milioni di parametri perché siccome ci sono 9 layer ci sono 9 layer e in ogni è il totale di questi layer ci sono 62 mila nodi cioè ci sono in 9 layer di questa rete neurale quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ci sono 62 mila di questi pallini che sono chiamati nodi questi nodi in pratica in questi nodi in pratica vengono eseguite l'elaborazione degli input che noi diamo nell'input layer quindi che succede siccome ci sono siccome ci sono 62 mila di questi pallini tra questi pallini si creano delle connessioni ecco queste connessioni che si creano tra i pallini vengono chiamati parametri vengono chiamati parametri quindi da 62 mila nodi scaturiscono 6 milioni di parametri in questa elaborazione di questi 6 milioni di parametri dovranno uscire due output l'output di 6 milioni di parametri sarà semplice sarà se questa foto sarà un cane o se questa foto sarà un gatto questi sono praticamente i due parametri in uscita quindi in input gli diamo una foto con tre parametri che sono i tre layers della foto e in uscita poi verranno elaborati in tutti questi nodi che sono praticamente 62 mila nodi e questi 62 mila nodi sono collegati insieme e nella somma di questi collegamenti sono 6 milioni di parametri dovranno uscire dovranno uscire solo due output che praticamente è il risultato che noi ci aspettiamo o un cane o un gatto l'output e questo diciamo è come funziona è come è strutturata graficamente questa rete neurale che stiamo andando ad usare per allenare l'algoritmo appunto per poterci dire se in quella foto c'è un cane o un gatto allora dopo il pippone di come è fatta diciamo la nostra rete neurale andiamo a importare il nostro spazio di google drive nel nostro collab poi vi spiegherò perché quindi andando qui ci colleghiamo a google drive e si sta collegando e ora qui andremo a vedere che praticamente lui ha importato google drive ed eccolo qua google drive con diciamo tutte le le mie cartelle all'interno che cosa andremo a fare ora ora praticamente andremo a lanciare il nostro modello ed andremo il nostro modello andremo a praticamente elaborare tutte le foto di cani e gatti classificate in precedenza attraverso il nostro modello di intelligenza artificiale quindi io l'ho già fatto perché ci mette un po' di tempo ci mette più o meno 15-20 minuti per 25.000 foto e praticamente se io ora schiaccio qui lui inizia l'elaborazione una per volta infatti qui gli ho detto che deve eseguire 10 step di elaborazione attraverso la nostra rete neurale e quindi ci mette un po' di tempo io già l'ho fatto e quindi non lo andrò a rifare ci metterà appunto 15-20 minuti ok allora questa è una parte importante del codice allora qua abbiamo detto che in questa parte del codice praticamente ci sono le dieci iterazioni che lui fa per la rete neurale dopodiché questa è una parte importante dopodiché io salvo il modello su google drive per questo ho caricato google drive in collab salvo il modello e lo salvo qui dandogli questo nome cat vs classification punto hc 5 infatti lo vediamo qua che è stato salvato perché è importante salvare il modello perché se non salviamo il modello cioè se non salviamo il modello che succede succede che perdiamo praticamente l'allenamento cioè questa questa elaborazione che io sono andato da lanciare lui praticamente lui si allena e poi alla fine dell'allenamento lui praticamente restituisce un modello allenato dove lui riconosce le foto di cani e di gatti però se io questo esercizio se io questo allenamento non lo salvo su un file perché l'allenamento viene salvato su un file se questo allenamento non lo salvo su un file io quell'allenamento l'ho perso e quindi devo rifare un'altra volta devo lanciare un'altra volta le 10 iterazioni far passare 20 minuti e rifare l'allenamento quindi è importantissimo salvare l'allenamento e quindi automaticamente dopo l'allenamento io gli ho detto che deve salvare l'allenamento in questo file e me lo deve andare a caricare su google drive in modo che ce l'ho a disposizione per il futuro perché in futuro se io voglio usare la mia intelligenza artificiale non ho bisogno più di fare tutto questo pipone di allenamenti ma posso tranquillamente utilizzare la mia intelligenza artificiale già allenata e quindi salto tutto questo aspetto che sono andato a spiegare ora io lo salto perché l'allenamento l'ho già effettuato ed è in questo file oltre a salvare questo file io salvo anche la history qui c'è anche il salvataggio della history che cos'è la history la history praticamente mi serve praticamente fa parte sempre di alcuni parametri di questa di questo allenamento e me li salvo perché poi mi serviranno per effettuare dei grafici e quindi praticamente io se voglio effettuare questi grafici anche in futuro non dovrò rifare tutto l'esercizio ma ce l'ho salvato in questa history e quindi potrò anche effettuare dei grafici quindi dopo che sono finite le 10 iterazioni ho salvato il mio allenamento ho salvato anche la history per poter effettuare dei grafici andiamo ora appunto a vedere questi grafici quindi lanciamo questo task che praticamente utilizza questi parametri dalla history e questo grafico praticamente mostra l'accuratezza dell'allenamento allora l'allenamento è stato praticamente basato su due cartelle d'immagini una contenente il training e una contenente la validation questo praticamente il training e la validation servono sempre perché per appunto per evitare come dicevo prima l'overfitting cioè nel training ci sono due cartelle cani e gatti di alcune foto dopo che lui ha fatto il training su quelle foto per verificare che diciamo il training funziona in modo cioè l'accuratezza di questo training è buona allora praticamente che faccio io vado a fare ancora un altro test dandogli altre foto diverse e questa è la validation cioè ci sono altre cartelle che servono a validare il training che ho fatto quindi avremo cani e gatti in una cartella training lui fa il suo allenamento su quelle poi dopo voglio andare a vedere se questo allenamento è buono o no e quindi vado a fare la validazione quindi vado a fare un altro allenamento nella cartella validazione che contiene cani e gatti foto diverse ovviamente e attraverso foto diverse io riesco a vedere l'accuratezza quindi praticamente quando lui andiamo a spiegare questo grafico è molto semplice la prima elaborazione il primo allenamento che ha fatto è appunto come dicevo il training sui cani su foto di cani e gatti quindi lui inizia il training lo stato di accuratezza del training come vediamo è molto basso perché lui non riconosce bene le foto di cani e gatti fa un sacco di errori e lui da questi errori praticamente praticamente migliora migliora e quindi inizia a elaborare più foto di cani e gatti e man mano man mano che lui elabora più foto di cani e gatti vediamo praticamente che l'accuratezza perché questo dato qua sulla sinistra mostra praticamente l'accuratezza quindi l'accuratezza migliora 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 fino ad arrivare ad un'accuratezza quasi del 76% però quando poi va a fare un altro allenamento sulla cartella validation noi vediamo che addirittura lui migliora ancora di più le performance fino ad arrivare ad un'accuratezza quasi dell'80% e quindi questo grafico che siamo andati a vedere appunto è l'accuratezza del riconoscimento delle foto poi c'è un'accuratezza che si chiama loss cioè praticamente l'errore cioè qua andiamo attraverso questo grafico della loss andiamo a misurare l'errore cioè lui praticamente all'inizio ha fatto praticamente un sacco di errori 0.625 nella training ha fatto un sacco di errori però piano piano che lui migliorava praticamente questo dato inizia inizia a scendere perché lui migliora quindi fa meno errori e quindi praticamente il suo margine di errori vediamo da qua è più basso stessa cosa per l'altro allenamento successivo della validation praticamente l'errore va sempre di più abbassandosi quindi praticamente molto più semplicemente quando il valore dell'errore scende il valore dell'accuratezza sale praticamente è inversamente proporzionale andiamo giù finalmente dopo aver visto come funzionano i grafici dopo aver fatto l'allenamento finalmente ora possiamo andare a testare nella pratica diciamo che questa è la parte più interessante possiamo andare a testare nella pratica se veramente questo allenamento dell'intelligenza artificiale dando di tutte quelle foto in pasto ha funzionato e quindi andiamo a fare la prova del 9 andiamo su internet prendiamo una foto diciamo di dimensioni ridotte quindi facciamo sites icone e andiamo a prendere la foto di questo cane andiamo a salvare e diciamo che il nome di questa foto deve essere uno cane chiamiamolo cane cane la salviamo andiamo nel nostro collab e chiamiamo la foto che abbiamo scaricato la chiamiamo con lo stesso nome cane però per poterla elaborare questa foto la dobbiamo mettere dobbiamo caricare questa foto in collab quindi andiamo qua file e andiamo sul nostro computer e andiamo a caricare la foto cane eccola qua la carichiamo lui l'ha caricata eccola qua ora lui andrà a leggere questo percorso qua gli abbiamo dato la foto cane lanciamo il task e vediamo se ci restituisce cane o gatto se ci restituisce cane significa che l'ha riconosciuta se ci restituisce gatto purtroppo l'algoritmo ha sbagliato e non lo riconosce ci dice che è un cane quindi è stato bravo l'ha riconosciuta però vogliamo fare un'altra prova con una foto diversa quindi la scarichiamo la chiamiamo cane 1 andiamo sempre ad importare in collab perché lui non sa dove sta questa foto andiamo a modificare chiedo scusa sbagliato cane andiamo a modificare il nome perché la foto si chiama in modo diverso lanciamo l'elaborazione e lui mi dice che ancora che è un cane quindi è stato bravo però ora vediamo se funziona con i gatti perché i cani li riconosce però non sappiamo se riconosce anche i gatti utilizziamo sempre foto piccole e prendiamo questo gatto qua salviamo la foto e la chiamiamo gatto salviamo come sempre la dobbiamo importare in collab eccolo là e gli cambiamo il nome gatto facciamo l'elaborazione vediamo se riconosce la foto gatto quindi gatto quindi la nostra la nostra intelligenza artificiale funziona funziona come dicevo prima siccome noi ci siamo salvati il nostro bel file allenato è la nostra history possiamo utilizzare praticamente questi due file per utilizzare immediatamente la nostra intelligenza artificiale già allenata quindi non dobbiamo fare più tutta questa elaborazione così lunga perché come dicevo abbiamo salvato l'allenamento quindi ho creato un altro file sempre su github un altro progetto che si chiama cat and dog trained quindi se andiamo ad aprire questo progetto eccolo qua già aperto apriamo in un altro tab ecco qua questo progetto praticamente è molto più 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 corto praticamente perché che fa va a importare le librerie quindi lanciamo le librerie poi lui che fa va a montare cioè va a creare la cartella di google drive in collab e si importa i file con praticamente l'allenamento già fatto quello già fatto in precedenza quindi abbiamo adesso caricando questo file dal nostro google drive eccolo qua google drive caricando questo file nel nostro software praticamente lui abbiamo un'intelligenza artificiale già allenata ho anche caricato la history perché se voglio posso ricreare il grafico se me lo voglio riguardare però la cosa più importante è che praticamente io ho già caricato da qui il nostro file allenato e quindi abbiamo un'intelligenza artificiale già allenata quello che dobbiamo fare è solamente importare la foto da qua cambiare il nome della foto mettere il nome della foto che abbiamo dato quando l'abbiamo scaricata da internet lanciare ecco per esempio lo possiamo rifare di nuovo cane io ho già importato una foto cane lancio e lì mi dice che è un cane quindi il codice diciamo successivo per quando avremo praticamente già fatto l'allenamento è molto molto più breve praticamente bisogna solo importare librerie importare il file già allenato e poi lanciare poi se vogliamo possiamo importare anche la history e visualizziamo ancora una volta lo stesso grafico di prima e poi lanciare praticamente il riconoscimento delle foto allora volevo insomma dire quest'ultima cosa l'intelligenza artificiale ora è stata allenata solo sui cani e sui gatti immaginate che e quindi sa fare solo questo immaginate che copilot di microsoft riconosce tutti i tipi di immagini cioè tu gli dici che cosa c'è qua dentro lui ti dice per qualsiasi oggetto c'è ma anche se c'è un testo ti dice che cosa è che cosa significa dove è stato trovato cioè ti dà miliardi di informazioni quindi immaginate un po' quante ore di allenamento e che potenza di calcolo e quanti miliardi o trilioni di parametri gli sono stati assegnati per poter riconoscere tutti i tipi di oggetti e tutti i tipi di immagini poi c'è un altro discorso che l'input che noi abbiamo dato di un'immagine come abbiamo detto un input di un'immagine a colori è fatta di tre layer di tre colori rosso blu e verde però se noi dobbiamo allenare l'intelligenza artificiale su esempio sull'audio o dobbiamo allenare l'intelligenza artificiale su un testo e allora gli input saranno diversi perché l'intelligenza artificiale non capisce cioè non sa che cos'è un suono non sa come sono fatte le parole l'intelligenza artificiale o un computer comprende solamente i numeri quindi praticamente noi diciamo che è un problema di come si dice di rappresentazione dei dati cioè noi dobbiamo riuscire a rappresentare i dati nel nostro caso in un caso diverso da questo della musica o delle parole scritte dobbiamo riuscire a rappresentarla in modo numerico e diciamo questo è il problema più più grande cioè dobbiamo riuscire a rappresentare quello che ci circonda attraverso i numeri quindi se noi dobbiamo allenare l'intelligenza artificiale per riconoscere un audio o per riconoscere le parole le lettere e allora lì gli input saranno diversi dobbiamo utilizzare dei numeri e dobbiamo riuscire a rappresentare queste lettere attraverso i numeri quindi gli algoritmi saranno diversi per elaborare i numeri le lettere gli input saranno saranno diversi e sicuramente per elaborare un testo ci vorranno molti ma molti molti più parametri spero che questo video vi sia stato utile per poter capire diciamo come è fatta l'intelligenza artificiale però c'è molto 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 di più però purtroppo diciamo non posso spiegare tutto perché sennò avrebbe un video di 8 10 ore diciamo che abbiamo toccato veramente solo la superficie dell'intelligenza artificiale va bene vi abbraccio e vi saluto ciao a tutti